Bella chicchi semo in diretta, ciao a tutti, ci dicono subito saluti d'Arcatar, ciao pure io Arcatar, guarda Tu Per ringraziare a vedere i 100.000 su YouTube e i quasi 350.000 su Facebook Oggi rispondo alle vostre domande Il primo chicco ci dice, che ne pensi del dissing che t'ha fatto Messi? Bella chicca, auguri per i 100.000 Ciao Simone Allora prima di tutto ho sentito il dissing Mi è preso un attacco di cagarella che a fine giornata il cesso sventolava la bandierina bianca e chiedeva pietà Ma andovà quel lumpa lumpa Emanuele mi chiede Qual è il segreto per far colpo sui ragazzi? Ciao chicco Allora Per far colpo sui ragazzi Devi avere un addominale che in pratica ci puoi grattugiare il parmigiano Devi essere bello e simpatico E soprattutto c'è di avere la banda perché se non c'hai la banda e donne Non te se filano chicco C'è scrive David Ciao chicco Hai preparato i lacrime per la finale di Champions? Che perderai? Mortasci te pippo Fammi grattare ma chi sei? Non è in golanna? C'è scrive Francesco Bella chicco Preferiresti che tuo figlio fosse un pischeletto dark O un grande fan dei rovazzi A chicco Con tutta sincerità Preferirei non averci figli Ma toto un cagnolino chicco Poi mi scrive Lorenzo scusami mi arzonatti E mi sta a venir cu la strisce Mi dice Come te spieghi che esistono certe bestie di satana Che preferiscono il sushi Alla pizza e la carbonara E quando ne incontri uno Che livello di sciabarabba di sale? Allora Grazie chicco Per la domanda Bella chicco Intanto vi faccio vedere a casa Per farvi sentire poveri Comunque Mi sale Quella atomica E poi E' vero che i gusti so gusti Ma Se c'hai gusti de merda So gusti de merda Edoardo mi scrive Caro Ronaldo Il tuo pensiero Sur fidget spinner Diciamo che Dopo un po' che inizi a girare Mi iniziano a girare pure le palle Mi girano tipo elicottero Certe volte spicco pure il volo E infine ci scrive Matilde E ci chiede Preferiresti Strillà Forza Lazio Oppure tu fatti in una piscina Gelata In mutande Davanti a migliaia di spettatori Portacci vostri Guarda che mi è stata a faffa Guarda 3 2 1 Mezzo Un quarto Mu me butto eh Oddio Olè Maronna che freddo Oddio me sei congelato il calippo Belli chicchi Se il video vi è piaciuto E ne volete altri del genere Lasciate un like Condividete E iscrivetevi al canale Sono usciti anche i nuovi adesivi Della pagina Per averli Scrivete alla mail Tossicodipendenti Punto Parastinchi Viocciolagmail Punto com O scrivetemi su instagram O facebook Belli chicchi Scrivetevi al canale Scrivetevi al canale